Paolo De Cesare, torna il programma del Maggio Teatino come ogni anno. Quali le principali novità? Anche quest'anno abbiamo lavorato in cooperazione con le associazioni culturali per le quali abbiamo aperto un avviso pubblico, un calendario istituzionale di grande valore con un'offerta culturale importante, tantissimi eventi, tantissime iniziative dal mondo dell'arte al mondo della lettura e della letteratura, al mondo del teatro, della recitazione. Insomma, veramente ogni forma di cultura sarà presente in questo corposo cartellone del Maggio Teatino. Ma soprattutto torniamo finalmente a festeggiare e celebrare il nostro Santo Patrono in Piazza San Giustino con un programma di rilievo. Proprio in Piazza San Giustino ci saranno i Vascomania Band Cittadina, ma insieme a loro i gemelli diversi. Sì, abbiamo affidato l'apertura di questo evento nella ritrovata e rinnovata Piazza San Giustino a una band ormai affermatissima che ormai ha sfociato fuori al confine regionale che è il gruppo Vascomania di Chieti, che aprirà questo evento che poi porterà sul palco di Piazza San Giustino la famigerata band dei gemelli diversi, il gruppo che anche quest'anno era presente a Sanremo. A seguire ci sarà questo format internazionale che si chiama Magia 90 con famosi DJ e intrattenimento ricordando gli anni 90. Questa offerta è per i più giovani, visto che peraltro quest'anno San Giustino cade in una giornata prefestiva quale sabato 11.